E buonasera a tutti, Thea Wecci con noi! Ciao a tutti! Noi ci lanciamo in questa sfida fantastica e divertentissima, ossia giocheremo a metà, cioè Thea ordinerà, perché le donne ordinano, devono dare disposizioni, lei ordinerà, dirà, muovi questo, muovi quest'altro e io dovrò inventarmi la mossa. Ovviamente se non rispetterò la volontà, mi saranno tagliate le dita, per cui io ce n'ho dieci, vediamo se riesco ad arrivare a fine serata. Come sapete ci dovete sfidare su Cest24, per adesso facciamo così la musichetta, la togliamo così ci concentriamo un attimo. Ci potete sfidare su Cest24, sapete benissimo che io sono mezzo minuto, quindi dovete andare sulla mia pagina e sfidarmi. O adesso, diciamo anche questa cosa, cortesemente sfidateci 3 più 2, perché non è che possiamo giocare Blitz senza, cioè Thea mi deve dire la mossa e io devo decidere, quindi ci vuole un attimo di tempo. Quindi magari sfidateci 3 più 2. Per adesso, per esempio, non c'è nessuna sfida 3 più 2, vediamo prima che arriva 3 più 2, perché 3 minuti, ragazzi, è un po' pochino a fare Hand and Brain. Sì, senza l'incremento. Eh, almeno con un piccolo incremento. Allora, vedi che partiamo immediatamente, partiamo immediatamente con Arcamelot, e quindi vediamo se Arcamelot intanto, vedi che mi si è spostata la scrittina là sopra, e io devo assolutamente andarla ad aggiustare adesso, non possiamo mica stare così. Ah, io intanto però ti devo dire pedone, Carlo. Sì, sì, tu mi dici pedone, però io non posso stare, è una cosa che proprio non posso stare con questa scritta che sta così, vedi, guarda, la devo andare assolutamente ad aggiustare. Perché se no non mi si vede il nome dell'avversario, questa è una cosa strana, che è inspiegabile, andiamo a vedere un po', era tutto bello preciso e poi mi si è spostato. E questa cosa non può andare, non può andare assolutamente. Quindi aspetta un attimo che lo riprendiamo, perché è brutto, no? Oppure giochiamo senza per questo momento. Vabbè, facciamo una cosa. Giochiamo un attimo senza il nome dell'avversario. Così. Ok, perfetto. Allora, iniziamo subito con una bella siciliana che è l'apertura preferita di Thea, e quindi vediamo che cosa succede. Vai! Eh, adesso già è dura, ma dico pedone, ti faccio scegliere quale. Vai, vai. Vai, vai. In chat dicono, digli cavallo per la Liekin o la Sigurin, ma cavallo. Dunque, la cosa carina è che io non potrò chiacchierare più di tanto, perché se chiacchiero tanto non sento più la voce di Thea. Quindi, o Thea, o chiacchieri tu, o comunque quando tocca a noi... Allora chiacchierò io. Oppure quando tocca a noi mi devo stare zitto assolutamente. Pedone. Pedone. Nel frattempo io saluto anche Angelo in chat, Alfiere. Eh sì, questa era abbastanza scontata. Eh sì, Carlo, dovrà essere silenzioso. Io ripeto Alfiere. Sai che vedo... No. Ok, Alfiere. Cavallo. E commentate voi in chat, mi raccomando, rendete il tutto ancora più difficile Alfiere. Che noi qua non dobbiamo lasciare... Eh, Re. Fino adesso non ci sono state delle incertezze, diciamo, esistenziali, no? Nel senso che... Ce l'abbiamo fatta. E già adesso si comincia... Si comincia la parte difficile. Non è così scontata la mossa. Io dico pedone. E tu devi fare mezza mossa, non ti preoccupare. Sì, vabbè, dai, però questa... Pedone, Carlo, pedone. Eh, vedi, Francesco, io ho fatto a sé, gli ho fatto spingere il pedone, così adesso possiamo muovere la torre. torre. Quindi torre. Torre. Eh, Alfiere H6 ci mette a dura prova. Il bello è che io non posso commentare, perché se commento do un suggerimento alla mia compagna, per cui mi dovrei astenere. Allora astieniti, astieniti e io nel frattempo ti dico cavallo. Peccato che io in questo momento vorrei vedere la faccia di Carlo. Sì, perché diciamo agli amici che Thea sta condividendo il mio schermo. Io sono su Cess24, quindi lei deve guardare Cess24 e non c'è la mia faccia. Thea, tocca a te, eh? Sì, tocca a me, mi muovo il re. Cavallo. Come potete vedere, è difficile senza... Mi sa che ci dobbiamo dare una mossa più che altro. Sì, adesso ci smuoviamo. Sono io che mi devo dare una mossa, che poi i due secondi non sono niente. Pedone. Alfiere. Donna. Adesso il gioco si fa difficile con un minuto e venti sull'orologio. Bravo. Bravo Carlo. Solidi. Ma non troppo. Alfiere. Concordo con Mad Carl che dovremmo avere più tempo, mi sa. Che dici? Eh, vediamo, va. Eh, cavallo. Siamo messi male, però ho detto cavallo. Eh, vabbè. Tocca così. Non demordiamo. Pedone. Stiamo facendo i salti mortali, ma la posizione... E donna? Oh, dai che ce la possiamo fare. Alfiere. Sì, dico alfiere pre-move. Vale il pre-move. Eh, vabbè, dai, diciamo che vale. Torre. Torre. Alfiere. Torre. 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 Il pezzo che va bene, non si sa. Il pezzo che va bene, non si sa. Tutti sempre torre. Vabbè, vabbè, non ne abbiamo tanti adesso. Tocca di nuovo a noi e io dico alfiere stavolta. Alfiere. Torre. 33 secondi contro il minuto e 42, siamo in ritardissimo. Ce la possiamo fare. Torre. Torre. Grande, siamo riusciti, siamo riusciti a vincere. Ce l'avevo fatta, sì. È stata dura, ma devo dire che abbiamo avuto veramente poco tempo. Effettivamente, come dice anche Mad Karl, è che coordinare i riflessi di entrambi è dura. Allora, anzitutto io voglio vedere se riesco a rimettere i nomi dei giocatori, non riesco a capire perché mi si siano spostati e questa è una cosa molto brutta. Fammi rimettere a posto. Intanto, Thea, tu che vuoi dire di questa partita? No, ci torniamo un attimo. Adesso ci torniamo. Io, scusate, ma ho una curiosità. Siccome nei tornei non si può mai usare l'Apple Watch o comunque qualsiasi tipo di orologio, volevo vedere i miei battiti in questo secondo perché ho sempre la curiosità di capire quando uno gioca a lampo e a pochissimo tempo. Perché una volta mi è successo che giocavo un torneo amichevole e a un certo punto l'orologio mi ha mandato la notifica che avevo 140 di battiti da seduta. Però no, in questo momento non ero così agitata, ho soltanto 80 di battiti. Quindi ci vuole altro per agitare me e Carlo con Hand and Brain. Comunque nella partita devo dire che ce la siamo vista veramente brutta. Senti, ma Alfiere, secondo te, torre per C3 c'era? Andiamo un attimo a vedere. Intanto io non so neanche se ho messo bene questa casellina, però non ci interessa. Andiamo un attimo a vedere se veramente c'era torre per C3. Allora, vediamo un po' le cose da dire in questa partita. Se voi lo vediamo, perché c'è anche il lato così istruttivo della cosa, no? Per cui andiamo a vedere. Anzitutto, va bene, D3 è una scelta un po' singolare perché in genere se voi giocate D3, probabilmente... Oh, guardate, io non posso fare le freccine oggi perché se mettiamo in modalità analisi mi si scompagina tutto. Per cui devo andare a memoria, dovete seguire. Anzi, posso usare il mouse, diciamo così. Se voi giocate D3, presumibilmente vuol dire che vi riservate un'altra spinta, che normalmente è quella in F4. Quindi non è proprio il massimo del massimo del massimo. Cioè, questo tipo di struttura, magari con G3, è preferibile affrontarla con cavallo G2. Tu che ne pensi, Tea? Che sei una sicilianista nata. Sì, no, sono d'accordo. È chiaro che come tipo di impianto comunque esiste anche così, però il nero non se ne preoccupa troppo. Diciamo che ci sono cose più fastidiose, ecco. Allora, Flaviano aveva visto come tutti il nero spacciato dopo la scoperta, però ci siamo inventati qualcosa, nonostante la hand and brain. Allora, vedete che qui, che cosa è successo? Qua c'è qualcosa che non va. Poi dire così quando Arcamelot ci stava massacrando sembra brutto. Però c'è qualcosa di strano. Perché il bianco ci ha messo due tempi per conquistare il centro? Questa praticamente sarebbe una sorta di variante, va bene, questo è diventato una siciliana del Dargone più o meno, ci sono tanti sistemi che sono così. Quello che sembra strano è che il bianco ci ha messo un tempo in più, semplicemente questo. Noi però non l'abbiamo sfruttato egregiamente questo tempo in più. Eh, devo dire, però qua, forse sei qua al posto di alfiere di 7, però alfiere di 7 sembra naturale. Sì, beh, non è un problema, adesso per esempio abbiamo la coppia di alfieri. Qui è successo qualcosa di strano, perché non si può mantenere la donna. Per esempio qua è stato simpatico perché tu ovviamente hai fatto a 6 per fare torre C8, io in realtà ero veramente tentato di giocare torre 8. Perché questo è un altro punto importante, vedete questo, il nero ha la coppia degli alfieri. Adesso il bianco gioca alfiere H6, è evidente che il nero vorrebbe giocare torre 8 su alfiere H6, giocare alfiere H8 per mantenere la coppia degli alfieri. Io sono stato stregato dalla volontà di Thea che ha preferito la torre in C8 e quindi ho giocato torre in C8, però c'è un po' pensato. A questo punto bisognerebbe vedere che succede con torre per C3. Se io non riesco come la prende la mossa, vedi, torre per C3, torre per C3. Alfiere per G7 la deve fare, mi sa, per forza. E allora qui alfiere per G7 rimane tutto in presa, non lo so, è complicato perché c'è torre per F3 ma mi rimane in presa il cavallo in E4, quasi sicuramente. Forse qua donna D4 anche, no? Sì, sì, allora non c'è, allora non c'è, meno male che non ti sei lasciata. Però poi noi siamo andati in posizione praticamente persa qui, perché qui, ecco, il problema è che... Eh, ho sbagliato secondo me qua a dire, non ho visto G4, G5, solo che dobbiamo fare tipo Reggio 8 forse. Reggio 8 assolutamente secondo me, perché il discorso è questo, qua c'è semplicemente, ma io qui le freccine non le posso fare, no, non le posso. Ah, però posso fare così, guarda, guarda che bello. C'è la donna sul re e qui, anche a prescindere da G4, G5, comunque c'è, per esempio, su donna D6, come ho giocato io, è molto, è molto... Cioè, poi si vede subito G4 perché il piano del nero, del bianco sarebbe fare cavallo e 4. Se non ci fosse l'alfiere, il nero sarebbe praticamente in grossa difficoltà. Invece qui, arrivando G4, a questo punto, secondo me, il nero ha perso. Perché arriva G5 e G5. Sì, tra l'altro, poteva fare cavallo per D7 pure, no? Beh, sì, sì, però guarda, cavallo per D7 è ancora più forte, perché cavallo per D7, donna D7, io mangio prima questo, poi mangio pure questo e... Boh, vabbè, abbiamo mangiato un paio di pedoni. Come hanno giocato lui era proprio finita, secondo me, io ho provato a inventare qualcosa e tutti avete notato che ho fatto una mossa strana, perché su G5, vedi, però le mosse si possono seguire, su G5 io non posso togliere il cavallo, perché se tolgo il cavallo mi arriva cavallo C4. Per esempio, se io faccio cavallo E8, arriva cavallo C4, adesso io non ho. E su E5? Ma E5 è la stessa cosa, è la stessa idea che ho giocato io. Sì, sì. Eh, E5 semplicemente se se lo mangia di cavallo, sì, E5 para, è la stessa idea, la potevo realizzare anche così. Anzi, è sicuramente meglio. Io ho detto cavallo, perché ho detto, boh, tanto facciamo E5, cade la torre, però come cade la torre? Cavallo per D6 io mangio in D4, lui mangio in C8, io mangio in C3, un minimo di compenso, ce l'abbiamo. Sì, 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 siamo d'accordo, però vabbè. Meglio E5, meglio E5, io sono, mi sono, avevo visto, è strano che io abbia visto lo stesso tema, però c'è qualcosa che non ho capito per quale motivo, boh, non lo so. Comunque penso che il bianco ha sbagliato a fare cavallo C4 perché è stato attratto dal mangiare la donna, però, cioè, in qualsiasi casa andiamo, se ci mangia in D7 abbiamo perso un pezzo, mi sbaglio. C'è cavallo per D7 scacco, se qui no. E qui c'è E5, però siamo sempre malissimo, ma non abbiamo, perché non abbiamo perso materiale, abbiamo perso solo il pedone. Sì, siamo stati fortunati, ci siamo salvati perché abbiamo... Ci siamo salvati, ci siamo salvati, dopodiché, là, siamo stati molto fortunati, qui, per esempio, torre C2, voi dovete assolutamente considerare una mossa come torre D1, perché comunque c'è questa torre che è sospesa, potrebbero nascere dei problemi. Poi magari si tiene, non lo so, magari torre per B2 si tiene, però è bruttina. Comunque, qui c'è un segreto, cioè, quando voi in finale di torri andate in seconda, la posizione è molto brutta. Adesso il cavallo del bianco attacca in F7, ma anche il cavallo del nero attacca tanto, è molto potente. Per cui, nel momento in cui le torri sono entrate in seconda, vedete che entrano, praticamente qui, provate a vedere se ci fosse qualcosa, entrano in seconda, la partita è finita, a prescindere dal fatto che il nero ha preso matto. Comunque stava molto male. Va bene, allora, vediamo un po' chi è che ci sfida con un incremento decente. Aumentiamo la cadenza, dai. Però c'è solo un 3 più 2, un 3 minuti, quindi accettiamo per adesso un 3 più 2. Accettiamo un 3 più 2, vediamo di mettere anche il nome dell'avversario che non si legge, è incredibile, guarda, è incredibile. E quindi io lo tolgo, stiamo giocando contro... Aspetta, provo ad aggiustarlo un attimo, perché non è possibile che quando non c'è la sfida... Aspetta, aspetta, uno fa tutte le cosette carine prima e niente, poi... Però mo' mi devo fermare e devo mettere sto nome, perché non mi piace che sia così, eh. Quindi un attimo di pazienza. Allora, fatemi prendere questo nome, che prima o poi riuscirò a trovare. Vedi che c'è ancora... ma è che cosa strana, però. Per i prossimi, mi raccomando, vediamo di... Oggi chiamo a 5 minuti, però a 5 minuti non c'è l'incremento, infatti è quello l'unico dubbio. Ecco perché non lo prendo, perché non lo prendo, adesso sto per prenderlo, è Volcano, stiamo giocando contro Volcano. Ecco qua, allora, fammi mettere questa cosetta carina, perché così c'ha più senso. Se no, loro non sanno manco con chi sta giocando. Arrivo, arrivo, eh, arrivo. Intanto te puoi analizzare la posizione dopo i 4, ci stiamo prendendo tutto questo tempo di vantaggio. Eh, tanto Carlo, lo sai che io tiro sempre pedone dopo i 4. Non ti dico quale, chiaramente, perché non posso, però ci divertiremo. Allora, intanto Volcano l'abbiamo messo, quindi andiamo, scusate, il piccolo ritardo, e allora di nuovo una siciliana, perché noi non abbiamo paura. Comunque ragazzi, vi racconto questa cosa, giocare, vai, vai, Thea. Vado, cavallo, stavolta cambio. Giocare End and Brain è simpaticissimo. Pedone. Perché c'è da considerare... Cavallo. Non ho sentito se hai detto qualcosa. Cavallo. C'è da considerare il repertorio dei due giocatori. Per esempio, siccome io e te siamo fortunatissimi, abbiamo scoperto che abbiamo un repertorio... Pedone. Completamente diverso. Completamente diverso. Quindi, se giochiamo una cosa per la quale lei è molto, diciamo, in modalità di mestichezza, vuol dire che io ho meno o meno abitudine, no? Alfiere. E questo alfiere D7 ce la fanno giocare ogni partita. C'è poco da fare. Eh sì. Ci fanno sempre alfiere B5. Sì, comunque, poi ci adattiamo. È chiaro che possiamo giocare tutto. Però è vero, è particolare che non abbiamo nessuna apertura in comune. Qui dico sempre pedone. 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 Ci siamo avventurati nel giocare una struttura, diciamo, classica della siciliana. Vediamo un po' che succede. Alfiere. Prima difendiamo le inchiudature, così stavolta... Almeno non ci becchiamo tatticismi. Vedete, il bianco nella siciliana cede... Pedone. Cede il centro per i pezzi. Adesso il cambio... Questo cambio del cavallo in D4... Toglie un pezzo centrale e riunisce pedoni del nero che potrebbero provare ad avere un po' più di spazio al centro. Vediamo un po' che succede. F4, super aggressivo. E io pedone. Vedo Carlo che sta cercando di interpretare il mio pensiero. Sì, perché in realtà potrebbe essere... Questa è una cosa che... È dura. Donna. Allora, questa era la mia idea prima di muovere il pedone, per cui volevo mantenerla questa idea, perciò anche ho giocato tra l'altro i cinque probabilmente... È donna. Probabilmente è... Donna. Oh, e qui siamo... Respiriamo un po', respiriamo un po', perché ci siamo mangiati un pezzo. Però... Adesso è ancora da giocare. Qui diciamo torre. E io, vabbè, adesso lo posso dire... O no, niente, lo dico dopo, lo dico mentre analizziamo. Perché ho detto pedone? Perché volevi giocare a D5. No, volevo fare un'altra cosa in realtà. Allora, qua... Qua dico donna, così non ci becchiamo scoperte. Adesso questa è una delle dimostrazioni del fatto che nella Siciliana il bianco attacca e vedete che in questo momento il pezzo in più del nero non è che si noti da morire. E' perché comunque lui ha la settima, infatti... Vediamo, vediamo cosa fa. Allora... Ecco, ci sta minacciando, vuole fare alfiere a casei, suppongo. Quindi noi re. Meno male che Madcar l'aveva detto che dovevamo considerare il finale i pedoni. Qua ci vogliono dare matto alfiere. Però ricordatevi che cambiare i pezzi conviene sempre a chi si sta difendendo o a chi è in vantaggio di materiale. Quindi due casi differenti. E noi, in teoria, abbiamo un pezzo in più. Pedoni. Ecco, vedi, io a casei la volevo fare quando ho detto al posto di E5. Ho detto prima, gli tolgo l'alfiere e poi... Adesso... Dopo che l'hai giocata, finalmente... Allora, qui c'è un problema, che io ho un vizio e il mio vizio potrebbe... A parte che stiamo dormendo. Dormendo totalmente, che c'era matto in una. Donna! E non l'abbiamo vista. Non l'abbiamo visto matto in una. Per adesso è donna, la facciamo. Nel dubbio, la facciamo adesso. Adesso la facciamo, però è diverso. Adesso facciamo... Ecco, io ho questo problema, che lo confesso pubblicamente. Siccome sono abituato a giocare, mentre Thea pensa, sono abituato a giocare velocissimo. Mi viene automaticamente da mettere la mano sul pezzo. Quindi Thea potrebbe avere un suggerimento. Mi devo addirittura stendere dalle mie normali abitudini, no? Perché per fare i pre-move... Va bene, Thea. Io infatti dico pedone. Tu mi dici pedone. Sì, basta. Adesso la facciamo. Rapidi. Ci scriveva rapidi. Sì, sì, adesso ci velocizziamo subito. Comunque guardate che è difficilissimo giocare così. Il bello è che se tu mi comunichi il pre-move, anche loro lo sanno poi. Eh, infatti. Però la cosa brutta è che comunque se te lo dico, poi dopo lo devi muovere veramente, quindi... Ah, infatti appunto loro lo sanno, però per esempio se tu mi dici C per D5... Ah no, perché tu mi dovresti dire pedone, è vero. Sì. Quindi se mi fa un... Ecco, vabbè. Pedone. Se mi fa un torre per D7, prendiamo un fatto in una. Esatto. E pedone. Donna. Alfiere. Vabbè, qui diciamo che siamo confortati, che siamo soddisfatti. Però notate quanto abbiamo dovuto soffrire. Però intanto la partita non è finita perché il nostro avversario è tenacissimo. Aspetta che qua... Ok. Alfiere. Ti faccio pure scegliere quale. Vabbè, mi sembra che cambi i buoni. E questa è la cosa bella. Alfiere pure l'altro. Ma quanto sei proprio venale. Torre. Sì, io sempre. Io tutto quello che posso mangiare lo mangio. Torre. Potevo aspettare effettivamente, però. Pedone. Questa è la regola che ci insegnano. Quando i pedoni sono passati, bisogna spingerli. E siamo riusciti a vincere. Ottimo. Allora... Dai, questa, a parte non aver visto il mattino una, però abbiamo giocato May. Allora, vediamo un po' che succede qui. Tea, tu che sei una sicilianista, spiega un attimo la situazione. Sì, diciamo che forse alfiere B5 del bianco non è una delle principalissime, però ci costringe a mettere l'alfiere in D7, quindi ci sta. E il tipo di struttura... Ecco, questa è il minimo di questa. E che io cavallo per C6 col bianco forse non la farei, perché credo che comunque il nero sia contento di riunire la struttura pedonale, perché adesso è chiaro che spingerà in D5 a un certo punto, per cui la debolezza strutturale in D6 comunque non ci sarà più. Per cui guadagniamo anche un tempo sull'alfiere che adesso deve ritornare in D3 e non credo che comunque lui abbia chissà quale attacco. Allora, quello che è interessante da capire è questo. Adesso qui ci puoi fare un... Anzitutto io avrei giocato donna a B6 subito, mi sei andato a mangiare. Eh, io l'ho per H6 invece. Avresti giocato? Sì, ma H6? H6. H6. Senza temere l'indebolimento del... Sì, perché tanto lui vuole fare i 5 di solito. Vuole fare i 5 e darmi matto in H7 o comunque i 5 e poi cavallo i 4. Tanto se fai F5 non è che ci preoccupiamo, ci lascia la casa di 5 a vita. Quindi volevo fare questa, poi scacco, che un bel buco per il re va sempre creato, così non ci prenderemo mai matto del corridoio e poi donna per B2. Però effettivamente si poteva fare anche subito donna a B6. Quindi a casella fai per togliere il pedone da H7? Togliere il pedone da H7 e poi anche avere il suo alfiere in H4 che comunque è sospeso. Quindi a un certo punto non so se avrò mai un cavallo per E4. Però sì, togliere l'alfiere di sicuro ed evitare la sua E5. Infatti anche la tua E5 comunque ci sta. Ecco, però qui tu dici pedone, no? In realtà... Sì, tu pensavi di 5 e 5. No, io stavo cercando di non fare una mossa che fosse contro la tua volontà. Il concetto è che dopo di 5 e 5 il bianco ha un attacco pazzesco. Sì, per quello volevo fare H6. Toglie, facciamo vedere a loro. Con E5 è riuscito a mettere il pedone in E5. Vedete che i principi sono sempre gli stessi. Questo abbiamo parlato tantissimo anche sulle dirette. Se il bianco riesce a mettere un pedone in E5, considerate che sta attaccando con la donna che va in H5, con l'alfiere che va in H7, con la torre che va in F3, in H3. Guardate, faccio i pallini rossi invece delle freccine. Però questo mi lascia soddisfatto lo stesso. Il pedone in E5 è un momento fondamentale dell'attacco perché toglie un difensore importantissimo. Quindi a me sembra orribile questa posizione dopo D5. è una struttura che esiste, però il bianco mi pare un po' abbastanza avanti e quindi potrebbe anche disinteressarsi del pedone in B2. Per cui io, per evitare questo, ho giocato E5. Ovviamente Thea ha più automatismo di me perché ne ha giocate tantissime siciliane, io non la gioco, quindi non fa parte del mio repertorio. Allora evitiamo un attimo F5. No, però E5 in realtà è furba perché avendo già cambiato una coppia di cavalli, anche se lui mangia in E5, piuttosto che spingere, non ha troppi pezzi per sfruttare la casa F5. E infatti facciamo vedere anche questo. In questo momento, in realtà, il cavallo del bianco è abbastanza lontano perché ci metterebbe tre mosse per andare qui. L'alfiere del bianco è un po' bruttino per l'attacco perché è bloccato dal suo pedone in E4 e quindi il bianco... Secondo te la scelta del bianco di giocare F5 è corretta? Io in realtà sarei stata ferma, ma avrei sviluppato qualcos'altro piuttosto. Perché comunque così sembra che stai andando verso l'attacco, però stai chiudendo la posizione, cioè stai decidendo di chiudere la colonna F che comunque è l'unica colonna che hai per la torre. Quindi in realtà, secondo me, F5 rende il nero ancora più contento perché poi ha la spinta di rottura in D5 che è quello che già vuole fare. Ok, allora, qui poi ci siamo accorti che c'è un pedone in presa, ce lo siamo andati a mangiare e dopo di che il bianco ci ha lasciato questo. Però nonostante questo, il bianco guarda quanto disturba. Disturba e attacca. Quindi pensate, ecco questa, come Tea vi diceva, è un po' strana perché rinunciate completamente ad avere anche l'alfiere in attacco che potrebbe disturbare e vi concentrate soltanto, guardate, dopo questo cambio, voi col bianco avete soltanto questo punto qua di attacco, cioè le due case chiare, perché la casa in G7 è molto ben difesa. Quindi, avendo un pezzo in meno, mi sembra un po' inopportuno. ricordatevi che quando state attaccando dovreste avere, nella fase di attacco, sarebbe l'ideale avere un pezzo in più, non un pezzo in meno, perché un pezzo in più vi serve per sacrificarlo. E quindi a questo punto il nero esce fuori, poi direi che è abbastanza tranquilla la situazione. E allora? Però c'è da dire che il nostro avversario, comunque pur avendo perso un pezzo, è stato bravo a continuare a complicare. Sì, un altro po' ci batte. Esatto, mi raccomando. No, qui stavamo qui, guardate che cosa succede. Allora, questo, ovviamente, c'è praticamente matto in una con donna e uno. Questo è un errore madornale. Perché accade questo? C'è una spiegazione logica. Il problema è che il nero ha consolidato il suo vantaggio, ha un pezzo in più, è tranquillo, non ha più bisogno mentalmente di guardare mosse attive. deve soltanto stare attento ai suoi pezzi e a non prendere matto. È talmente forte questa cosa che non abbiamo visto. Oddio, Thea, io potrei dire che tu non hai visto, perché tu hai detto Perone quando io sicuramente l'avevo vista. Vedete, il cervello va in modalità difensiva, perché sa che quello è ciò che importa. Non prendere matto e non vede matto in una. La vediamo ovviamente subito dopo e qui non serve. Qui io avrei giocato una delle idee di giocare donna a 5, sicuramente io avrei giocato torre B8 qua. Sì. Perché voglio andare con la torre mia in B1 e prendere matto il bianco. E invece, Thea, abbiamo visto che se magna tutto e dà scacchi. No, io volevo dare scacco per fare D5-D4 e volevo fare alfiere 5. Io se vedo la torre in G3 e in H2 voglio solo mangiarmi. E va bene, qua c'è una forchetta e il nero ha anche queste inchiudature e poi ha vinto. Va bene. Allora, ottima, ottima. Ci siamo, abbiamo, stiamo anche imparando varie cose, per cui questa è la cosa che ci piace di più. Allora, vediamo un po' chi ci sfida a 3 più 2. Vedi che Delia ci sfida a 5 minuti. La vogliamo accettare a 5 minuti? Accettiamo 5 minuti. Però Delia sei stata cattiva, perché ci hai sfidato a 5 minuti. Ti avevo detto di sfidare a 3 più 2. Vai! Pedoni Pedoni Cavallo Ecco, e mo' te voglio vedere, ti è becca di questa. Pedoni Cavallo Alfieri Eh, non la gioco da anni, vabbè. Vabbè, ma... La giocavo, la giocavo un tempo, quando ero giovane. Donna? A me, ragazzi, scusate, se volete, faccio finta che Thea sia caduta con la trasmissione, perché io, sentirmi dire quando ero giovane da Thea, non lo accetto. Eh, lo so, lo so, Pedoni. Eh, ma è vero, è quando... Niente. Un po' di anni fa. Cavallo. Allora, vedete che succede, che noi stiamo cercando di giocare sulla casa D4. E... Però questo... Sì, Cavallo. E dopo che l'hai detto, mi sono... Sì, vabbè, ma che c'entra? Ormai già l'avevo. Re. E questa è la cosa difficile, non farsi implementare, perché poi cerchi di capire l'altro cosa vuole, e torre. Allora, qui c'è da dire questo, ricordiamoci che non abbiamo l'incremento, eh. Alfiere. Qui mi sa che Delia sei un po' confusa, perché fortunatamente per noi non c'è torre 8 alla fine della variante, perché noi abbiamo il cavallo in F3. Se non avessimo avuto il cavallo in F3, ci sarebbe stata una bellissima, dopo Alfiere per C6, Donna per E7, ci sarebbe stata una bellissima torre 8 simpatica, che però, diciamo, Donna per D6 e torre per E1, ma c'è il cavallo in F3. Per fortuna, Donna. Giustamente, cioè giustamente, adesso, diciamo, conta poco, però giustamente Delia ha quantomeno preso di pedone, perché? Perché? Donna. Perché almeno non cambia, non cambia un pezzi, poi dopo ha lasciato in presa, perché? Si è fatta, si è fatta rapire dall'idea mia, però io te l'ho pure detto, c'è il cavallo in F3. Eh, peccato, perché? Peccato per lei, però. Va bene, va bene. Allora, vogliamo, no, vediamola anche un attimo, vediamola un attimo. Dunque, questa è la variante, la famosissima variante Tarrasch della francese, chi ha seguito il mio percorso di famosissimo nella storia di Tarrasch contro Nunzovic si ricorderà che questa variante si chiama variante Tarrasch, non mi ricordo se c'eri tu, quando l'abbiamo raccontato, perché praticamente questa si chiama variante Tarrasch, nonostante Tarrasch l'abbia giocato quattro volte in vita sua, avendo dei risultati schifosi, e a quel punto invece la storia gli ha detto, no, no, la chiamiamo variante Tarrasch, e quello dice, no, ma te prego, non mi mette sto nome su sta cosa che mi fa schifo, lui scriveva i libri dicendo che era una mossa sbagliata, anzi, approfitto proprio per dire, perché lui diceva è sbagliata perché il nero gioca a C5 confutando l'idea del bianco, perché vedete, il nero ha preso il centro, in realtà, qui il nero è molto aggressivo e gioca una posizione nella quale è lui ad avere il centro e lui ad essere aggressivo e allora come va questa posizione? Va così, qui succede che c'è il pedone di donna isolato, allora, nel pedone di donna isolato voi basta che intanto teniate presenti un paio di principi, i principi sono questi, qui il bianco deve smussare la potenza dei pezzi del nero, perché il nero comunque ha un alfiere che disturba qui questo qui teoricamente dovrebbe andare in D6 attaccare sulla Rocco il cavallo che viene in E4 in G4 un pedone che si può spingere voi dovete smussare questa cosa come si fa a smussare? non vi mettete in testa piani molto attivi dovete cambiare i pezzi bloccare la spinta del pedone e semplificare vediamo se noi siamo riusciti intanto abbiamo guadagnato dei tempi di sviluppo vedi Delia ha un po' i pezzi intorcinati direi non so se sei d'accordo perché qui noi vorremmo avere una donna in C7 con un alfiere in D6 magari il cavallo in G7 l'alfiere in D7 che cosa ci suggerisce? che il nero lo dovrà ricollocare in D6 deve stare quello perché deve attaccare sulla Rocco anche in B6 e siccome il nero lo deve ricollocare mentre noi abbiamo già tre pezzi fuori c'è qualcosa che non va perché il nero deve basare tutta la sua partita sulla velocità se è lento comincia a puzzare la posizione infatti che è successo? noi prendendo il controllo di D4 per primi siamo andati sulla colonna lo vedete? è una posizione strana perché il bianco dovrebbe essere dovrebbe rimanere passivo dovrebbe stare un po' sotto i pezzi del nero dovrebbero avere più spazio e perché i pezzi del nero hanno più spazio? lo sapete tutti perché nero ha il centro che si tra l'altro vorrebbe anche fare cavallo D4 magari no? è certo il nero deve il nero deve portare i pezzi avanti deve disturbare il bianco e il pedone D5 serve per sorreggere D4 quindi il nero ha il centro è contento di avere il centro però come vedete c'è i pezzi messi male la donna davanti all'alfiere l'alfiere dovrebbe stare in D6 la donna in C7 eccetera significa che è in ritardo il nero quindi anche se il nero è stato immediatamente punito perché ha perso un pezzo e qui vedete il tatticismo guardate che questo è un tatticismo molto carino che esiste molto spesso se il bianco non avesse il cavallo in F3 che protegge la torre sarebbe matto quindi in questa situazione il bianco avrebbe perso la donna la donna per pezzo e torre quindi vuoi aggiungere qualcosa a queste pilloline di strategia che stiamo regalando? no no sono d'accordissimo con quello che hai detto bene bene sì diciamo che il pedone isolato chiaramente è molto difficile da trattare perché bisogna essere veloci bisogna essere attivi mettere i pezzi il più in gioco possibile e in questo caso in realtà era il bianco quello che aveva l'iniziativa quindi ricordatevi quando avete il pedone isolato di non lasciare pure l'iniziativa all'avversario perché sennò è troppo difficile per voi va bene allora Giorgio Alessandrucci è il nostro nuovo avversario come vi dite là non si vede io guarda questa cosa mi fa impazzire ogni volta mi cambia perché? ah perché devo fare così ecco qua oh che bello e quindi Giorgio Alessandrucci ci può sfidare vediamo se con 3 più 2 vediamo se è rimasto in linea oppure ci viene simpaticamente a trovare e poi comincia come col telecomando col televisore che si sguicciava da una parte all'altra perché se Giorgio non è più in linea noi dobbiamo giustamente prendere qualcun altro mi sembra che se ne sia andato a fare una passeggiata magari torna più tardi io direi che lo possiamo quindi possiamo abortire questa partita altri pochi secondi vediamo se c'è mi pare che se ne sia andato forse andato vediamo Evocation One se ci ha sfidato a 3 più 2 che ha scritto ancora no intanto io facciamo abort di questa vediamo chi c'è intanto che Evocation ci risfida noi accettiamo questa che però è a 5 minuti quindi Filippo Av ci sfida a 5 minuti vediamo un po' intanto il nome sta bello 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 lì vediamo se Filippo Av invece è presente però vedete che stiamo riuscendo a dare delle indicazioni strategiche che è la cosa poi alla fine più importante tra l'altro in realtà con questa modalità anche noi impariamo molto perché io praticamente se sono costretto a giocare varianti che te ha nel sangue e io no in realtà posso imparare sempre qualcosa da quello che allora Filippo Av non ci sei? Filippo Av pure ci ha sfidato e poi se ne è andato in giro ah eccolo ci siamo ci siamo hai detto pedone è una giocatrice di siciliana io non faccio altro che fare E5 cavallo cavallo pedone comunque ragazzi è bellissimo immaginare veramente quello che ha l'altro in testa è impossibile Alfieri allora qui c'è da dire una cosa vedete che cosa è successo che il bianco sta giocando in realtà una siciliana variante del darone io donna non ti ho sentito che hai detto? donna il problema è che giocando a 3-b3 ha un po' rallentato e non ha sfruttato il tempo di vantaggio hai detto Alfiere vero? sì piedone che poi Carlo poverino è quello che deve prendere tutte le decisioni difficili dopo commentiamo questa mossa che è interessante cavallo pedone re 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 di 8 vuoi giocare secondo me però io ti sorprenderò e giocherò al rocco eh non me l'aspettavo torre questa è bella però questa non è così semplice come può sembrare adesso farò una mossa che sorprenderà perché questo potremmo mettere nel capitolo con quale torre andare in D8 eh questa è la domanda fondamentale degli scacchi secondo me chi lo capisce è veramente forte adesso diciamo alfiere no ho cambiato idea volevo guadagnere un pezzo ma non lo guadagno per cui mi tocca per forza dire donna che a Carlo non ha convinto molto beh in questa specifica situazione mi sembra che ci fosse materiale impresa per noi però lasciamo perdere bisogna sempre guardare la posizione corrente non farsi influenzare bravo ah io sono troppo orientata verso la difesa donna donna vediamo se riusciamo a allora qui dobbiamo ricordarci che non c'è l'incremento abbiamo tre minuti e mezzo perché ci dicono che l'orologio è fermo l'orologio di chi è fermo? non lo so lo fanno apposta per fregarci non ti preoccupare tu concentrati va bene mi concentro ma io dico cavallo però adesso siamo riusciti a fare una cosa molto simpatica per noi c'è il famosissimissimo attacco doppio e quindi ci mangiamo praticamente tutto cavallo dicono che loro lo vedono fermo l'orologio loro lo vedono fermo ma è vero anch'io lo vedo fermo ma perché guarda che queste sono i segreti guarda che roba è incredibile perché è fermo l'orologio guarda pazzesco fammi vedere ti assicuro che l'orologio si muoveva se vi può rasserenare allora fammi vedere che succede qua ma com'è possibile guarda eh sì oh è fantastica questa cosa l'orologio lo prendo lo metto lo tolgo qua c'è 3 13 a 7 qua c'è 5 ma è stupenda poi poi voi adesso capite la difficoltà vediamo un po' ti basta metto un po' di musichetta di sottofondo visto perché c'è questo problema dell'orologio non ce la risolve però adesso andiamo a commentare vabbè commentiamo un attimo con l'orologio così eh 5 minuti andiamo a commentare la partita allora guarda con la musichetta di sottofondo quanto è carino commentare la partita guarda guarda tu dimmi chi è che commenta le partite con la musichetta di sottofondo bassa bassa intanto diciamo questa cosa simpatica vedete io cercando di indovinare quale mossa sarebbe stata più gradita a Thea e non ricordandomi esattamente su G4 cosa gioca io ho giocato E5 perché ho giocato E5 perché abbiamo appena detto che ti è una giocatrice di siciliana e questa è una siciliana per chi non se ne fosse accorto è una siciliana in cui il nero sta giocando la siciliana e ha un tempo in più allora il segreto di questa cosa qual è che il bianco dovrebbe sfruttare questo tempo in più perché immaginatevi che bello giocare una siciliana con tempo in più tu Thea quanto pagheresti per avere un tempo in più ogni partita con il nero beh guarda già penso sempre di stare meglio quando gioco la siciliana a prescindere figurati con un tempo in più allora dunque vediamo un po' allora D3 per esempio questa è una mossa che non è particolarmente in sintonia perché perché il nero scusate il bianco rinuncia a sfruttare delle sequenze comunque andiamo più avanti se no facciamo troppo i sofisticati anche a 3 è una mossa molto lenta in realtà quindi il bianco vedete ha in mente una struttura dell'inglese e gioca quella non gliene può frega di meno come si dice qui a Milano e gioca a 3 noi portiamo i pezzi al centro e qua Thea decide di giocare D5 o meglio Thea decide di dimmi pedone a questo punto volendo escludere G6 io ho giocato D5 e anche D6 perché Thea dall'alto della sua profondità ha deciso di giocare D5 perché ha visto che il bianco già ha perso un tempo in quanto torniamo un attimo indietro se il bianco non perde tempi per esempio se gioca qua invece di giocare a 3 comincia a giocare G3 e alfiere G2 e magari cavallo C3 invece che D3 qui già ci impedisce D5 ma anche così se noi giochiamo questa a questo punto è una partita in cui si può guarda guarda però non riesco a non dirlo mi dà fastidio il pedone D3 che il bianco ha rinunciato a fare una potente D4 è un dragone è un dragone nel quale il bianco ha perso un tempo con D3 perché non può fare D4 ci sono tantissime varianti in contromossa nelle quali voi potete sfruttare la allora la musica a loro non piace la vogliono più bassa ok mettiamola abbassa dai un'innovazione ragazzi non ci fate cazziatoni ogni cosa che facciamo allora poi magari c'è chi piace c'è chi non piace l'ho abbassata adesso è bassa abbassa comunque la partita come va quindi D5 B3 vedete perché il nero si può permettere di prendere spazio perché non teme più di avere il tempo in meno tu te ha più o meno pensato queste cose oppure pensato solo al fatto che hai pensato no ci ho pensato poi pensavo appunto che comunque nella siciliana il bianco fa D4 su CxD cavallo per quindi è molto normale in realtà come ha giocato il nero va bene va bene allora dai ragazzi ho capito che era troppo alto il volume lo abbiamo abbassato vediamo un po' com'è andata ditemi se vi piace adesso Mad Karl si lamenta perché viene bannato dal sistema non lo so Mad Karl forse avrei detto delle parole sai che se dici bomba o Berlusconi o Putin vieni bannato non lo so o forse hai detto Zoldan non lo so hai detto delle cose strane che non piacciono al sistema ok adesso si sente tutto ditemi se la gradite o la volete togliere donna D7 e alfiere G2 adesso quello che dobbiamo vedere è questa mossa qui questa mossa qui non ci piace tanto perché voi giocando questa mossa c'è una differenza sostanziale nella posizione ragioniamo anche in maniera più semplice facciamo finta solo per capire facciamo finta che il nero il bianco abbia ripreso di donna lasciamo perdere il fatto che possiamo cambiare le donne il nero il bianco perde un tempo la differenza fondamentale in questa posizione è che adesso il nero potrà sempre controllare la casa D5 giocando C6 e il bianco non avrà più le mosse C3 E3 quindi questa casa in D4 è molto importante per il bianco per il nero stessa cosa qua io ho preso di pedone perché comunque il bianco io ho preso di pedone ho potuto scegliere non so te a tu hai in mente di prendere di pedone tu hai detto pedone fai te come ti parla no penso sia meglio prendere in C4 come hai fatto tu perché altrimenti se prendiamo in E4 comunque lui rimangia di cavallo è vero che ha il pedone arretrato in D3 però ha cambiato un po' di pezzi siccome di base penso che siamo noi quelli ad avere vabbè ok lo spazio forse è pari però a me sembra che non siamo di più noi guardate il bianco ecco guardate il bianco qui è praticamente sfondato lo vedete è sfondato perché ha perso dei tempi qui e sta giocando non si vede che è il bianco sembra il nero e comunque invece il nostro avversario probabilmente in maniera corretta qui ha preso di pedone provando a giocare sulla casa D5 il problema è che noi giochiamo C6 e quindi te ha giocato cavolo D4 io avrei giocato forse torre D8 no vabbè cavolo D4 non c'è fretta cavolo D4 adesso C6 va bene si ok adesso arrocco oh tu volevi giocare torre F o torre A io torre F istintivamente torre F ecco però invece hai visto che forse è più corretta questa perché tanto da quella parte rischia di aprirsi il gioco mentre invece da questa parte non si apre il gioco quindi mi serve più la torre sulla F e sulla E secondo te è giusto fare torre A D8? sì è vero effettivamente hai ragione tanto alla fine la torre in A8 non avrebbe avuto delle altre colonne utili la colonna C è chiusa la colonna B alla fine è semi aperta però è il bianco che ci può dare fastidio ci chiedono se il bianco può prendere in D4 sì può prendere in D4 però noi mangiamo di donna e sarà costretto adesso non può prendere in D4 a meno che non ci siano degli scherzi perché adesso c'è D3 e C3 in presa quindi a meno che non succeda qualcosa di strano qui ma non lo so non credo beh insomma no no non succede perché così proteggiamo la donna va bene perfetto abbiamo visto tutto e comunque niente poi certo che può prendere in D4 sì sì può prendere no sì idealmente il nero vuole sempre mangiare con un pezzo in D4 e non con un pedone questa è una cosa che va detta sì Flaviano vuole mangiarsi vuole mangiarsi il pedone in B7 e quindi dice se noi prendiamo di donna sì lui mangia qui bu non lo so non lo so io mangerei in C3 poi in D3 con la torre mi sa che casca tu e c'è il fiere percifatto la torre in E7 pure boh non lo so rischia pure di essere intrappolato con lo D7 donna non lo so vabbè comunque insomma sono tante cosette carine quello che interessa capire oh qui c'è qui invece che è successo il bianco ha provato a fare no io che cosa è che dicevo che qua ecco qua c'è cavallo E2 sì cavallo per e donna per D3 però poi ci mangia in E5 e chi se ne frega noi ci ce ne stiamo fregando perché sì certo cioè se lui ci mangia in E5 cavallo di qua noi siamo strafelici alfieri C5 sì insomma una cosa del genere alfieri del nero bellissimi pedoni del bianco orribili a me piace sì no è assolutamente ragione va bene invece qua vedete che è divertentissimo perché io ero tutto contento dall'avere la batteria di donna e te a me la togli e io niente donna C7 ok qui purtroppo ecco guardate questo però è un momento importante Filippo AV dunque adesso c'è da dire questo anzitutto due cose anzitutto quando tu vedi che il re sta a raggi X c'è la donna che da qualche parte tu lo devi togliere senza neanche pensare la prima cosa che fai lo togli da mezzo poi un'altra cosa in una posizione del genere probabilmente non ti devi preoccupare del pedone in A3 perché allora a questo punto mangia in B7 cioè io qua avevo visto che se mangiavi in B7 c'è il cavallo quindi devi fare H1 però comunque come tipo di posizione piuttosto che difendere un pedone in A3 ti conviene senz'altro perché guarda il pedone in A3 tra l'altro questo qui comunque è debole se io ipotizza che non ci sia nulla io mi proteggo questo adesso a te rimane il pedone debole a me no quindi ti conviene nettamente casomai mangiare questo e se io mangio questo tu hai puoi inventarti qualcosa contro questi miei pedoni ovviamente mi potrei pure dire a parte che è una torre in S7 ma che non fa mai male però potresti pure dire sì però questo pedone potrebbe essere forte e vabbè forte o debole non si sa comunque è un po' scassato la struttura che altro possiamo dire su questa partita forse niente eh volevo capire se se Mard è riuscito a sfidarci oppure no allora andiamo a vedere subito chi c'è che ci sfida cioè vedi Della che ci sfida con una nuova 3 più 2 rischiando che non si veda l'oloroggio perché qui mi continuo guarda questa è una cosa ragazzi io non posso cioè superare pure queste difficoltà è incredibile questo fatto provo a riprenderlo ma io non so perché ma veramente è incredibile allora provo a riprendere questo loroggio che ti devo dire lo riprendiamo e poi prima funzionava pure ma è incredibile lo riprendiamo oh adesso si vede l'ho dovuto riprendere zacchete beccatevi loroggio allora la musichetta proprio la facciamo praticamente sparire e andiamo a vedere se è qui ragazzi 3 più 2 ce la facciamo a prendere un'altra Delia rivincita di Delia dai rivincita di Delia Delia prima aveva il nero adesso il bianco vediamo che cosa si inventerà e vediamo soprattutto se ecco che vai pedone allora pedone a questo punto io faccio una cosa molto strana così incartiamo un po' Delia va pedone vediamo se a questo punto dobbiamo vedere se si incatta Delia o se ci incartiamo noi alfiere pedone 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 cavallo cavallo re donna ci dicono che comunque è rimasto Filippo vabbè però da lei è così io ho diventato scemo ma come è possibile scusa vabbè dai intanto muovi poi ci pensiamo è incredibile vabbè muoviamo e togliamo sto nome dell'avversario allora abbiamo detto donna 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 facciamo questa va si abbiamo perso un mezzo minuto per fare sta cosa dell'orologio basta adesso ci dobbiamo concentrare cavallo e ci dicono che l'orologio è fermo ma non possiamo farci molto si l'orologio è ancora quello di prima comunque questo è OBS che sta facendo cioè io più di così comunque ragazzi che vi frega dai adesso fateci giocare se no perdiamo perdiamo poi cerchiamo di aggiustarlo cavallo siamo sotto di tempo perché io ho perso tempo a chiacchierare però vai aspetta che tocca di nuovo a me e io dico questo è difficile però dico piedone abbiamo bisogno di tempo sì ci hanno fermato io no in realtà Delia ha due minuti e sedici e noi un minuto e quarantasette e noi facciamo facciamo cavallo 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 perché ce l'abbiamo in presa forse non è stata geniale questa mia ma recupereremo che abbiamo ancora il cavallo da muovere però lo rimuoviamo facciamo di nuovo cavallo e almeno stavolta abbiamo un'idea torri donna e adesso devo sempre controllare che non ci siano tatticismi se no Carlo poi cavallo alfiere io continuo con l'alfiere ci dobbiamo velocizzare donna adesso durissima questa posizione abbiamo tutti i pezzi sospesi ma diciamo donna alfiere non pensiamo più no non pensiamo più cavallo pedone torri sì dai ti dico va bene il pre-move e qua diciamo torri donna alfiere peri dico aspettiamo alfiere torre alfiere torre torre re re questo premuglo possiamo fare alfiere 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 e continuo non mollo e continuo con l'alfiere devi sbrigare il re contate per quante volte ho detto alfiere 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 di nuovo alfiere adesso però dico pedone re pedone pedone il bello che un altro pedone adesso lo dico giustamente delia continuava perché siccome siccome ovviamente tea pensava anche allo spettacolo a commentare divertentissimo con 5 secondi arricchiva no non ho visto niente si comunque mi raccomando contate quante volte ho detto alfiere in tutta la partita perché veramente sogna vincere un premio qua qui ci sono tanti tanti questo sistema si chiama caro pierce è un incrocio tra la carocan e la pierce è una variante non particolarmente esaltante però il bianco potrebbe avere diciamo delle incertezze giocata come l'ha voluta giocare tea si semplifica un po' ridiventa una struttura più 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 consueta ci sono tante altre possibilità perché addirittura il nero potrebbe giocare forse con questi alfieri no però a volte il nero gioca dei piani del genere che sono molto complicati gioca f6 poi gioca poi gioca cavallo cavallo f7 è molto complessa questa partita perciò io ho provato a giocare questa cosa complicata però tea mi ha redarguito mi ha detto no giochiamo una cosa più semplice ha fatto cambiare al centro a questo punto c'è una struttura che è abbastanza tra l'altro simile a quella che stiamo studiando proprio con Delia l'unica differenza che sarebbe la struttura la struttura carocan che però è caratterizzata il pedone in e6 l'unica differenza è che l'alfiere sta già in g7 sta già premendo contro il g4 vediamo un po' come va allora donna b6 è una mossa che puzza forse forse tu volevi giocare donna a5 o donna c7 perché tutte le mosse che questo è vero che attacca un pedone però tutte le mosse che si pongono in una in una scoperta cioè richiedono una grossa attenzione forse pure sbagliata è molto rischiosa perché il nero deve ben controllare che non ha problemi con d5 tu volevi giocare donna b6 o donna a qualche altra parte io pensavo donna c7 e poi tipo torre d8 e d5 come piano però secondo me in questo caso ci sta anche donna b6 è meglio quella che dici tu però forse dobbiamo provare a giocare 5 senza torre 8 senza torre d8 per lo stesso motivo che di prima penso perché se noi giochiamo facciamo una mossa qualsiasi cavallo d2 non lo so se noi giochiamo torre d8 l'altra torre come prima guarda che bello è la stessa cosa di prima che ci facciamo dell'altra dobbiamo fare a 5 a 4 a 3 oggi Carlo mi ha insegnato che in d8 ci va la torre A mi raccomando imparate anche voi vabbè questo dipende però sei tu che hai detto che puoi giocare 5 no? sì sì no è vero vabbè invece come va la partita va che qui questa pensa dunque qui il nero che cosa sta cercando di fare abbiamo sempre detto che se voi cedete date il centro all'avversario comunque non glielo regalate per tutta la partita è chiaro che il bianco sta comodo se ha questo centro quindi voi dovete guardate che differenza che c'è tra il pedone in e7 e il pedone in d4 quindi il piano del nero è quello di fare 5 per sgretolare il centro vedete che bello non c'è più il centro del bianco questa è l'idea che ha avuto il nero poi qui per esempio Thea ha deciso di giocare c5 perché ha pensato che il cavallo in d4 fosse troppo forte così allora noi ci dobbiamo sminacciare e giocare c5 però qua ho sbagliato cavallo c4 non è buono cioè muovere il cavallo non è buono e soprattutto noi abbiamo problemi con h3 forse no boh forse ancora ancora ci salviamo però la mia idea è stata sbagliata io qui avrei fatto per esempio soprattutto qui ah io volevo fare cavallo b5 al posto di cavallo f5 cavallo b5 però segue a4 che è perso il pezzo no ha quasi perso il cavallo si è vero quasi perso il cavallo allora cavallo qua adesso qui una differenza è questa sicuramente io qua avrei giocato anche perché tanto sta arrivando donna c4 io avrei giocato donna c6 per fare b6 e alfiere b7 però magari non è buona a me piace però cioè visto che non sta giocando qui noi andiamo a rompere le scatole qua tra l'altro donna c6 è legata anche cavallo h5 guarda con questi due cavalli come stiamo attaccando bene noi si è vero è vero quindi donna c6 con alfiere b7 e cavallo h5 gli stiamo sparando quattro pezzi sull'arrocco che potrebbe essere una cosa carina vedete il nero è riuscito a giocare sull'arrocco perché ha sgretolato il centro se non avesse voi immaginatevi una posizione così come quella che c'era prima così mi spiegate il nero come fa a giocare sull'arrocco non ha le linee aperte sarebbe impossibile invece dopo questa vanno via i pedoni quindi questa linea diventa aperta questa linea diventa aperta e quindi i cavalli stanno già da queste parti potrebbe essere una cosa interessante vediamo che succede allora qui c'è stata questa un po' qua stiamo con i pezzi un po' troppo sospesi in effetti sì ecco per esempio anche qua b6 è troppo lenta adesso perché tu mi fai torre d6 pure cioè il bianco ha torre d6 che disturba c'è alfiere in c3 tu volevi giocare alfiere per c3 giustamente ero indecisa perché pensavo alfiere per c3 ok farà torre b1 forse torre d6 però penso si possa fare sì perché poi metto l'alfiere in d4 sì sì è vero invece no io ero più guardavo più l'altra parte della scacchiera avrei fatto ok alfiere 6 va bene ho mosso l'altro alfiere allora adesso ce lo siamo mangiato qui però qui ho fatto una mossa che non va donna c7 perde al colpo secondo me rivediamo rivediamo donna c7 adesso su torre 6 io ho c'è l'intermedia però rimane a 1 in presa hai ragione rimane a 1 in presa per fortuna io pensavo donna c8 che almeno difendiamo il g4 non si sa mai forse a te non piaceva ma a me guarda sinceramente a me qui non piaceva né donna c7 né donna c8 perché donna c7 mi puzza perché c'è questo giochino ma donna c8 mi puzza perché la torre abbiamo una torre in meno come ritiriamo fuori i pezzi quindi non mi piace questa posizione questa posizione il nero ha un pedone in più però non mi piace perché tutti i pezzi del bianco stanno giocando bene e il nero ha una torre in meno in a8 quindi non mi convince infatti è stata una mossa un po' sofferente donna c7 però forse se regge regge qui non c'è il tempo di valutare per esempio qui l'abbiamo tolta subito perché non si può più fare torre di 8 e qui c'è un po' di caos sinceramente non ci scapio per esempio la fiera di 4 è più sensata qua sì forse sì però ok qui non ci scapisce più niente quando non ci scapisce più niente i pezzi si cambiano avevamo talmente tanto poco tempo che e quindi ecco per esempio qui c'è la fiera di 5 sicuramente qui c'è la fiera di 5 sì però no perché c'è torre 1 cavolo che fortuna che abbia avuto tutta la partita possiamo fare B per C perché prende il corrido ah c'è matto hai ragione ottimo siamo stati molto fortunati con i tatticismi abbiamo visto tutto abbiamo visto tutto allora questa posizione è obiettivamente del tutto pari noi cambiamo questo alfiere forse anche alfiere di 4 è buonissima anzi sicuramente è meglio alfiere di 4 però noi non abbiamo più tempo quindi io ho cercato di semplificare magari magari Tea che è una giocatrice più brillante di me avrebbe giocato alfiere di 4 però sai che non è che cambia il mondo no perché oddio alfiere di 4 c'è questa impresa l'attore deve stare attenta per esempio forse minacciamo B5 B5 è un pezzo caspita si vince mi sa di sì e se giochiamo ah no no questo è impresa aspetta torre una cosa così torre di 7 sì capiamo tutto non lo so comunque insomma e invece che è successo è successo quindi noi abbiamo semplificato dov'è che ha sbagliato Delia è che ha lasciato materiale in impresa perché giocava sul fatto e poi ha lasciato anche alfiere in impresa giocava vedi Delia che cattivona ecco però Delia qui è fatto un errore perché hai giocato come è corretto giocare quando si gioca senza incremento fai tutti i premuove e quello perde per il tempo ma qui c'è una grossa fregatura noi abbiamo due secondi a mossa basta fare una mossa che poi hai perso cioè tu dopo che qui hai fatto re 2 praticamente hai perso c'è un pedone in meno da notare pure un'altra cosa che potrebbe avere una certa importanza cioè questa casa è bianca cioè male che va se voi col bianco riuscite a sacrificare l'alfiere per un pedone noi abbiamo un pedone H che promuove eventualmente se l'alfiere fosse stato sul nero sarebbe stata molto più interessante l'alfiere sul nero con l'alfiere sul nero ovviamente la stessa casa perché il polo contrario è tutta una situazione completamente diversa vabbè ci stiamo divertendo intanto io spero anche voi quello che non si capisce è perché qua ogni volta mi fa un po' di di pastrocchio questo nome ma questi sono i segreti i segreti del 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 il nome avversario che si vede non si vede quello che sparisce mamma mia guarda che incredibile e vabbè però è il bello della diretta sì proprio quello nel frattempo accettiamo altre sfide mi raccomando che appena Carlo finisce qua di sistemare voglio vedere se perché non si sistema questa cosa Delia Mercuri con l'oroggio suo tranquillo adesso io qui la dovrei prendere se anche non la prendo la riprendo è sparita guarda che è fantastico è fantastico vabbè c'è poco da fare guarda guarda che comunque adesso noi non possiamo spegnere il programma e riaccenderlo perché ogni tanto fanno così i programmi hanno bisogno di essere spegnati e riaccesi siamo senza nome avversario che dobbiamo fare è pazzesco ve lo diciamo vabbè vediamo chi ci sfida dai che siamo stiamo un po' allora ci abbiamo un altro 3 più 2 accettiamo il 3 più 2 da Marvelous Maggi vediamo un po' tocca a noi pedone pedone giochiamo e 4 perché siamo giocatori super aggressivi cavallo pedone pedone adesso questo è interessante prima oltre l'altro pensa che ne ho parlato proprio ieri pedone con uno dei dei miei amici che sta qui in chat che cosa sta succedendo che il nero pedone che il nero non ha contrastato l'impossessamento del centro da parte del bianco lo ha contrastato adesso mentre te la pensi tu puoi dire mentre io parlo sì sì io dico cavallo lo ha contrastato dopo però ciò ha comportato che il bianco ha portato un pedone in e5 questa cosa infastidisce un pochettino il nero che non sa bene come tirare fuori i suoi pezzi alfiere re vediamo adesso cosa farà il nostro avversario pedone quando Carlo sbuffa non è un buon segno no no che c'entra tu sei molto più profonda di me quindi riesci a vai vai concentriamoci che non dobbiamo andare sotto i tempi va bene torre guarda mi rifiuto di fare torre 1 quindi te lo dico pubblicamente va bene mi rifiuto categoricamente ancora siamo in linea col tempo ma dobbiamo forse velocizzare per essere più tranquilli per la finale quando dovremo fare i commenti in diretta questa è una struttura francese francese di spinta però si chiama struttura francese caratterizzata dal pedone nel 5 alfiere e qua mi devo velocizzare per forza ma cavallo questa è una mossa polifunzionale serve a due cose serve a difendersi da una parte e da attaccare dall'altra pedone ecco come si attacca perché vedete il nero deve giocare sull'ala di donna ma il bianco deve giocare sull'ala di re sfruttando la sua catena pedonale che punta verso l'arrocco quindi tipico è l'avanzamento del pedone e tocca di nuovo a noi adesso alfiere o ok no pedoni pedoni ho cambiato idea ho cambiato idea in corso d'opera alfiere sto cercando di velocizzarmi però ho fatto una cosa un po' dubbia e cavallo donna donna alfiere alfiere cercando di capire cercando di capire se non ho visto un tatticismo ma forse adesso ti viene in mente visto che ho giocato questa cavallo questo sta in presa da un po' secondo me è donna io sono in modalità nuovo veloce non vedo niente ma ma non perdo per il tempo ma donna non capisco che mossa volevi fare mi tolgo dalfiere f5 sì dovevo fare torre torre ma ci abbiamo 30 secondi eh ora basta chiacchierare eh sì donna torre cavallo torre torre pedone torre cavallo complicatissima posizione con pochissimo tempo torre torre donna cavallo torre no scusa è un po' sopprita vai vai e pedone pedone col pre move pedone tanto anche c'è il cavallo pedone allora ragazzi la cosa più difficile in assoluto è non fare le mosse in pre move perché sei totalmente abituato a farle qui comunque vediamo un po' anche questa partita come se se c'è stato un momento di interesse anzitutto tea scusami ma ti rendi conto che oggi stiamo giocando tutte siciliane sia col bianco che col nero allora quello che stavo dicendo prima è questa variante questo tipo di di partita cioè quando il bianco fa c3 a che serve perché il bianco vuole fare il d4 e diversamente dalla normale siciliana perché nella siciliana normale da che cosa è caratterizzata la siciliana normale diciamolo anche per magari quelli che sono un po' meno esperti il bianco mette un pedone o un cavallo al centro però fa una cosa un po' bizzarra e tu che sei una giocatrice del siciliano sei contenta cioè permuta un suo pedone centrale con un pedone laterale che follia è mai questa? è una cosa strana e chi non vuole fare questa cosa ovviamente lo fa per avere i pezzi al centro e per attaccare poi chi non vuole fare questa cosa gioca a questo tipo di sistema con c3 e a che cosa mira questa? mira a realizzare l'affiancamento centrale ora quando il bianco prova a fare una cosa del genere non è l'ideale fare una mossa come calo c6 che non impedisce questo affiancamento vedete che l'affiancamento è stato realizzato guarda questo molto è buffo perché in una lezione con un nostro caro amico che sta anche qui in chat abbiamo fatto proprio ieri abbiamo visto che le mosse che impediscono l'affiancamento cavallo c6 perché anche lui pensa aveva giocato cavallo c6 in questo tipo di struttura perché lui dice beh io devo guardare il d4 ma così non lo guardate in realtà i due metodi che impediscono l'affiancamento sono cavallo f6 che costringe tra virgolette il bianco a spingere e non ha più questo affiancamento di pedoni centrali oppure l'immediata d5 vedete che con d5 cambia tutta la partita d5 tra l'altro è legata al mancato sviluppo del cavallo in c3 vedete il cavallo non sta in c3 non attacca al centro quindi il nero ne approfitta e fa d5 il nostro avversario ha giocato cavallo c6 e noi abbiamo realizzato l'affiancamento adesso con d5 è vero che lo rompete questo affiancamento ma il nero il bianco una cosa se voi lo impedite quando il bianco sta in e3 un'altra cosa è se vi beccate un pedone in e5 che disturba sempre e come abbiamo visto pure oggi forse il cavallo in f6 protegge h7 è importante tenerlo poi qui c'è stata una differenza di impostazione mi sembra perché io qui allora torre b1 tu vuole giocare torre 1 probabilmente no? si volevo fare torre 1 perché in realtà non pensavo di fare f4 pensavo più di fare g3 h4 ok con me ok infatti h4 una mossa che potrebbe essere interessante addirittura qui perché quando abbiamo ancora la torre sulla cioè andiamo un po' a interrogare probabilmente è forte qui lo sai subito e dà fastidio sì abbiamo un po' a interrogare questo cavallo in g6 soprattutto sfruttando un po' per esempio qui c'è una mossa del nero che è un po' ma è un po' sospetta alfiere in d7 in questo momento non è la priorità giocare alfiere in d7 vedete? non è la priorità la priorità è sviluppare questo lato di re quindi con h4 probabilmente noi siamo molto più veloci sfruttiamo queste due mosse in meno che ha il nero perché il nero ha già una semi mossa in meno poi forse c'è pure quest'altra mi sembra che sia più efficace no? bella h4 è più efficace sicuramente eh sono quelle mosse che magari in apertura non fai perché vai col pilota automatico però fanno la differenza allora invece noi abbiamo fatto arrocco e poi abbiamo giocato a3 tu forse volevi giocare g3 h4 però vedi mi piaceva più 4 ore in h1 allora sì allora a3 tra l'altro non è che ci stia proprio malissimissimissimo perché in alcune varianti lui che ha fatto arrocco in alcune varianti si gioca così cioè si gioca così per chiudere tutto cioè noi stiamo chiudendo noi vogliamo ricordiamoci questo che è importante no? noi abbiamo una catena di pedoni che sta guardando da questa parte siccome togliamo questa casa dal nero noi abbiamo la catena di pedoni lo sappiamo basilare quando ci sono le catene di pedoni è che il bianco scusate no chi ha la catena di pedoni deve attaccare la base della catena la base della catena il nero l'ha già attaccata la base della catena in realtà è come se avesse fatto c5 c3 c per d4 c per d4 quindi la partita ha questa direzione bisogna andare da questa parte quindi h4 come dice te ha senz'altro disturba quello che però non potrebbe qui abbiamo giocato io ho giocato torre b1 perché torre 1 guarda addirittura avrei giocato torre a2 torre a2 è bello torre a2 serve sia in c2 sia in f2 sia in g2 torre a2 mi piace però poi mi è sembrata un po' troppo esagerata allora ho giocato torre b1 che comunque dopo b4 b5 può servire perché abbiamo il b5 che è protetto quello che proprio mi sono proprio come te ho anche pubblicamente detto mi sono rifiutato di giocare torre a1 perché torre a1 senz'altro è invece interessante in un'ottica perché se il nero vuole giocare come a volte deve giocare cioè rompendo il centro del bianco noi abbiamo la torre a1 quindi effettivamente se il nero gioca così torre a1 è bella però c'è da dire che se il nero non gioca così noi questa torre abbiamo quasi un po' perso un tempo perché noi vogliamo fare f4 e f5 a meno che non facciamo torre a3 e torre g3 però insomma magari c'hai ragione tu e andava a giocare torre a1 io ho fatto torre b1 no in effetti è chiaro che la torre in e1 è solo in funzione di f6 però credo che lui la debba fare f6 perché se no però lui non l'ha fatta allora questa mossa è molto bella perché come stavo dicendo io prima difende le case chiare dall'incursione del nero vedete che il nero sta giocando sull'ala di donna e prepara la spinta vediamo che succede a6 ok a questo punto il nero un po' in difficoltà non riesce a fare f5 penso perché dovrebbe bloccare questa avanzata considerate che forse non riesce perché si prende un passant però considerate che qui ci sono anche dei piani simili in cui si mette la torre in g1 e si fa g4 comunque a parte questo il nero che ha fatto ha fatto b5 qui è interessante perché io avrei preso qua sì avrei dovuto mangiare in d5 subito in effetti mangiandomi e conquistando tutto il centro guardatevi adesso vi faccio questo parallelismo super sconvolgente e meraviglioso guardate che bello guardate che ha fatto il bianco ha fatto una spinta di pedone in f5 in nero ha tolto un pedone centrale ed è crollato il centro mo vi faccio un parallelismo di quelli proprio stratosferici e attenzione guardate un po' qua qual è la razio di questa apertura togliere un pedone centrale per conquistare il centro adesso con questa perla fantastica voi siete deliziati e possiamo anche chiudere la trasmissione in un anticipo di mezz'ora no però guardate che bello se voi avete ben presenti questi concetti di 4 adesso o anche dopo prima cavallo f3 se non vi piace la variante se voi avete ben presenti questi concetti lo vedete che succede guardate qua nella gambetta di re spinta del pedone f qui è uguale spinta del pedone f e crollo del centro mamma mia che parallelismo fantastico sono soddisfatto ora mi posso stare zitto e parlatea no è vero io avrei dovuto fare avrei dovuto dirti cavallo però non non lo so mi è proprio sfuggito sarà quando guardi soltanto da una parte la scacchiera che non hai la visione complessiva comunque ragazzi cioè voi ovviamente ci perdonerete però giocare una cosa del genere praticamente l'ultima cosa che noi guardiamo è la scacchiera nel senso io guardo la trasmissione la diretta il loro roggio che zompa il nome che non ci sta eccetera eccetera chiacchieriamo eccetera quindi è chiaro che possiamo fare delle stupidaggini non siamo siamo concentrati un decimo di quello che saremo concentrati in partita normale no? allora cavallo c4 per esempio qui eh qua non ho mangiato non ho fatto ok anche qua c'è cavallo per d5 sì qui c'è anche qua perché c'è la famosis no non c'è riprende di cavallo quindi qui non c'è quindi ok allora donna d3 ma tu che volevi giocare donna d3 forse donna d2 perché sta minacciando alfiere per a3 cioè non ci credo veramente però in teoria io addirittura vedevo delle cose super aggressive no? tipo donna g4 che attacca l'alfiere però il problema che puoi giocare è questa guarda che mossa assurda bella cavallo per e5 mi sa di sì forse c'è alfiere h7 scacco e donna per e5 ma insomma un po' era un po' forse c'è donna g4 però è una di quelle mosse che insomma prende una grande responsabilità no? sì sì e quindi sono stato un po' più tranquillino donna d3 mi pare abbastanza tu volevi giocare donna d3 o donna d2 perché donna d3 guarda h7 mi sembra più sana sì infatti vanno bene sì forse più sana donna d3 donna c8 che disturba perché perché disturba ecco no qui però è presa è alfiere per f5 sì no mi preoccupava alfiere per f5 ma in realtà mangio di torre non c'è non c'è niente non c'è niente si posso mangiare ok questo è un'impresa di nuovo però però non ce lo siamo pappato per dare più brio eravamo d'accordo e qui guardate ragazzi ammirate la fantastica tecnica di hand and brain allora la tea qui mi dice alfiere è sicuro a palla tea voleva giocare alfiere d7 ma io mi accorgo che tea non ha visto cavallo d5 e quindi gli do un suggerimento perché dice perché tea dice ma come ma perché mi hai fatto alfiere f5 e no per favore alfiere g6 ci deve essere qualcosa o carlo è ubriaco oppure dall'alto della sua strapotenza tattica ha visto qualcosa oh c'è il pedone in presa in d5 e infatti tea l'ha immediatamente visto il problema che non funziona torre alfiere f5 perché c'è in presa l'alfiere quindi buona mossa anche questa del nero e qui è divertente perché qui cavallo e alfiere si fronteggiano e qui c'è sempre il dilemma no ma è l'alfiere che controlla il cavallo o il cavallo che controlla l'alfiere? il cavallo per me è il cavallo per te il cavallo vedi perché giustamente come ci dice il mio amico o nostro amico Lexi Ortega in questa battaglia vince chi sta messo meglio cioè se il cavallo è messo meglio vuol dire che è il cavallo che controlla l'alfiere e se il cavallo è messo peggio è viceversa tra l'altro qui c'è da dire che questa alfiere di 8 è difensiva cioè va a controllare di 7 perché quello non sa proprio dove andare questa alfiere qui c'è poco da fare dovrebbe vabbè alfiere di 8 va bene qui ci deve essere qualcosa ecco io qui è torre C1 forse avrei dovuto fare torre C1 torre C1 perché cambiamo qual è la torre dovete sempre pensare questo qual è il pezzo che un po' più ci disturba la torre in C4 è attiva forse non dà tutto questo fastidio però che cosa succede? che se noi giochiamo torre C1 non lo giochiamo tanto perché vogliamo togliere questa ma la giochiamo perché abbiamo un vantaggio grosso qui attenzione questa è una pillolina importante quindi sedetevi ho visto che siete andati là tornate un attimo aspetta aspetta tornate tutti qua allora pillolina a che serve questo cambio di torri? guardate cosa succede se cambia le torri guardate siccome allora notiamo questa cosa adesso adesso il nero ha la torre libera la torre potrebbe potrebbe muoversi vedete si muove si muove nel momento in cui intralcia diciamo così normalmente la torre sta qui no? nel momento in cui il nero intralcia la il collegamento fra le torri noi a noi scatta una lampadina attenzione lui ha le torri intralciate che cosa significa questo? super pillolina significa che voi conquisterete una colonna zan zan torre c1 vi deve venire in mente perché conquistate la colonna lui non ha possibilità di mettere una torre in c8 c'ha 6 mosse da fare non ce la fa quindi grande vantaggio del bianco perché ha conquistato la colonna eh sono quasi sconvolto dalla bellezza di questa pillolina oh invece te ha giocato io te mi ha detto donna io non sapevo proprio dove mettere la sta donna sì forse in d2 è maria torre c2 con guadagno di tempo è anche quello è vero non lo so io lo donna b4 cavallo e7 ci volevo provare però è è vero fare torre c1 vabbè torre c1 è molto molto sana abbiamo come allora donne 2 a questo punto succede qualcosa che forse che cosa c'è niente torre c1 ora va bene qui dobbiamo di nuovo togliere la donna e lui penetra dall'altra parte qui sinceramente vi annuncio che né io né te abbiamo capito un gran che perché c'hiamo pochi e abbiamo troppo poco tempo per capire ma forse h3 funziona h3 h3 mi sembra un pezzo eh ma se attacca se attacca il cavallo in maniera più stupida possibile poi se ne va sì questo è vero però anche anche donna e4 sì donna e4 cavallo c3 donna e4 c'è cavallo c3 eh donna e6 cavallo f4 donna d7 però funziona donna d7 funziona per merito di questo favoloso alfiere che controlla il cavallo quindi era l'alfiere che in modalità difensiva invece qui ci abbiamo capito poco abbiamo giocato cavallo f4 vuole giocare a cavallo f4 tu cavallo c3 sì sì la siamo stati difensivi vabbè qui abbiamo portato i pezzi arroccandoli perché ora dobbiamo solo stare attenti h3 lui va via qui qui che ti facciamo mi era dovuta in mente questa però è alfiere per alfiere per g5 sì ci sta ma non conviene però no perché questo alfiere in g5 è troppo forte no 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 questa mossa non va bene perché che cosa succede allora vediamola anche questa è una cosa importante ricordiamo che noi facciamo queste queste banter blitz ma l'obiettivo è divertirci ma imparando in ogni partita se noi ci fermiamo in ogni partita ad analizzare impariamo tantissime cose noi qua col bianco abbiamo un pedone in più alfiere di colore contrario sta quasi meglio il nero nel senso che noi abbiamo un pedone in più ma notate bene una cosa i due pedoni del bianco sono completamente bloccati dall'alfiere del nero che è un alfiere meraviglioso perché attacca attacca più l'alfiere del nero dell'alfiere del bianco quindi quasi sta meglio il nero qua perché guarda che bello che questo alfiere difende f7 e poi giochiamo torre c2 nero sta una favola qui posizione orribile del bianco pedone debole in g2 pedone debole in d4 siamo d'accordo che la posizione è brutta con un pedone in più pensate che roba quindi abbiamo giocato qui non ci si è capito molto qui abbiamo cambiato perché dobbiamo cambiare la coppia dei alfieri questa senz'altro va bene a questo punto la posizione è vinta perché abbiamo un pezzo in più eccetera ok allora ci stiamo per per l'ultima sfida l'ultima sfida intanto io provo magicamente a vedere se niente qui non ci sta più la vabbè rinuncio a mettere il nome perché perderemo troppo tempo e quindi andiamo a vedere l'ultima sfida l'ultima o la penultima non si sa l'ultima o la penultima dipende da quanto l'analizziamo da quanto sarà interessante allora mi sembra più carino non accettare la terza consecutiva da Delia giusto per rispetto agli altri che ci sfidano e qui abbiamo una sfida interessante perché tre minuti no tre minuti però non ci piace forse tre più due è più accettabile giochiamo tre più due con Ardaus che ha un elo serio e quindi ci metterà in difficoltà senza dubbio Ardaus 2210 contro di noi sempre che sia ancora online perché potrebbe giustamente anche essersi stufato o stufata infatti mi pare che non ci sia è peccato sarebbe stata interessante ecco ecco di quattro pedoni prima volta allora qua abbiamo abbiamo tre più due mi pare che abbiamo detto ok pedone pedone cavallo cavallo alfiere re oh io infatti volevo farti giocare alla tarras che dopo che hai parlato di tarras per sempre pedone è un london che hai detto eh lo so io ci ho provato a fartela giocare la struttura ma il bianco non ha che hai detto pedone detto pedone donna alfiere ma ce l'abbiamo incremento qui o non ce l'abbiamo mica l'ho capito forse no aspetta eh cavallo cavallo forse era meglio un'altra cosa però l'idea c'è a me non sembra però che ce l'abbiamo ce l'abbiamo piedone piedone cavallo questa è una scelta comunque in effetti il pubblico non vede l'ororoggio quindi a questo punto io lo tolgo e facciamo prima perché è inutile che guardi l'ororoggio quando non c'è e purtroppo vabbè vai vai ok e cavallo mi sono vabbè però una mossa buona col cavallo c'è ce l'abbiamo mezzo minuto sotto e non ho manco capito se abbiamo un incremento adesso vediamo di recuperare cavallo donna alfiere meno male che dal pubblico ci dicono che è 3 più 2 ci rassicurano torre attenzione che Carlo per la prima volta non ha messo la torre a video donna che donna abbiamo raggiunto pari tempo adesso almeno abbiamo pari tempo dai però dobbiamo forse essere un po' più concentrati torre piedone piedone donna calo alfiere alfiere piedone abbiamo 40 secondi donna 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 torre podre torre ed caro e torre e torre vabbè ci ha messi in grossa difficoltà ok quasi occhio al matto sì partita siamo riusciti ad abbandonare siamo riusciti allora qui stavolta non ci siamo ho sbagliato io alla fine perché dovevo difendere a 6 solo che io volevo andare dall'altro lato ma scusami un attimo sì ma qui ma scusa allora donna f5 donna b7 a partire è finita e torre per d1 si è finita in due le fregature del land and brain invece che noi è la seconda volta che abbiamo la batteria di donna e torre e non la donna ma scusa allora allora questa madonna ma hai detto pure donna era bellissimo questa io non l'ho donna per f2 ci stava mannaggia non ho visto donna per f2 ero così scocciato di dove muove la donna che non ho visto questa mossa fantastica facciamola vedere a tutti che mossa meravigliosa possiamo fare un matto con tutte e due le torri e proprio sul finire non abbiamo giocato questa che peccato che pollastro perché secondo me stavolta non ci siamo troppo presi con le idee quindi non riuscivamo a capire come come gestirci che peccato no però donna f2 è fantastica torre di un vince tutte e due modi che faccio questa mossa qua a questo punto è qua io volevo fare torre di cinque per difendere almeno b5 fare torre g5 c'è matto in una è imparabile questo matto imparabile adesso devo no è parabile basta immuovere il pedone invece un mosso la donna per difendere questa è questa prima che ho sbagliato io ho detto donna ma avevamo già troppo non so più come muoverla perché io non volevo fare torre di 5 al posto di torre di 1 ho detto ma provo a difendere torre g5 ma ragione questa sì ragazzi con così poco tempo capite bene meglio questa meglio questa meglio questa mamma mia senti vabbè ma allora al cardiopalma questa partita vabbè comunque era bellissima mannaggia i due modi di dare matto avete visto che pur vedere dare matto con la donna dare fatto con la torre invertire le due cose va bene va bene è proprio un peccato perché c'era donna f2 che era sarebbe stata all'epilogo della serata eppure abbiamo sbagliato io ho sbagliato questo anche io avevo visto no donna è perfetto guarda che scusami ma cosa è successo qua donna perché bastava dire torre si vinceva donna si vinceva invece io non l'ho visto perché aveva un poco tempo e quindi niente con quindi a questo punto penso che ci possiamo rilassare e salutare tutti e facciamo i complimenti al nostro avversario che comunque ha giocato una bellissima partita il nostro avversario che è con nome oscuro perché nessuno lo vede ma è arda us quindi qua ragazzi cioè non è che posso spendere riaccendere per rimettere il link del nome abbiamo fatto così e ci siamo divertiti lo stesso e bene allora grazie a tutti ciao anche ercole che ci è venuto a trovare francesco flaviano matt carlo mai vedi che è un gruppo è un gruppo consolidato queste sono sono è bello no che già abbiamo tutti questi amici fissi praticamente essi e se prendevi la torre in f2 scacco e poi donna in d1 sì vabbè c'è anche donne anche o senti allora noi secondo noi vincevamo in tutti i modi perché ci sono in mattina ottava però in realtà vi confessiamo questa cosa perché l'abbiamo fatta apposta perché perché il boss ci ha detto ragazzi mi raccomando non vincete tutte le partite fate gliene vincere almeno una perché sennò poi non ci vengono più e dicono che siamo cattivi eccetera eccetera e quindi io avevo perfettamente visto donna f2 lo sapevo ancora prima l'avevo vista alla quarta mossa però ho deciso con te avevamo deciso questa cosa di farne vincere una quindi perfetto dai comunque tutto carino purtroppo abbiamo saltato quest'ultima cosa e niente ci sta e quindi adesso noi salutiamo tutti e speriamo di avere te al al prossimo hand and brain di nuovo se ci si diverte insomma secondo me non sono troppo una compagna ideale però io mi sono divertita spero anche tu e il pubblico questa è questa è la cosa migliore è la cosa più importante guarda sto ancora un po come si dice qua ripeto a milano sto un fuori un po rosicando perché non abbiamo giocato donne non ho giocato donne f2 che pollastro è il gioco difficile però la colpe sta di entrambi bello che torre di uno elementare madonna f2 in tema ancora più elegante bellissima l'ho mancata purtroppo ragazzi vi confesso che non dormirò per aver mancato questa mossa non so proprio come fare e però cercheremo di farci perdonare la prossima trasmissione per cui tea ti lascio i saluti finali assolutamente grazie ancora a tutti per averci seguito per averci sfidato e come dicevo prima speriamo di ripetere questa serata perché per noi sicuramente è stato divertente e data la partecipazione penso anche per voi va bene ragazzi allora grazie a tutti ci vediamo prestissimo arrivederci baci abbracci ciao 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 ciao